È dedicato ai corpi in Transigenti, il Toscana Pride 2023 che si terrà sabato 8 luglio a Firenze. Il ritrovo del corteo è alle 16.30 al Giardino delle Scuderie Reali con partenza prevista intorno alle 5.30 dal piazzale di Porta Romana. Il percorso prevede il passaggio per le vie di Firenze e poi l'evento finale con interventi e incursione di artisti al Parco Vittorio Veneto. La manifestazione di quest'anno, hanno spiegato gli organizzatori, chiede una legge che renda inammissibile discriminare per orientamento sessuale, genere o identità, ma anche una normativa che istituisca in Italia il matrimonio egualitario e una riforma complessiva del diritto di famiglia che stenda a tutte le persone la possibilità di adottare o procreare senza seguire il legame biologico come criterio su cui si fonda il concetto di genitorialità. L'Italia, puntualizza il portavoce del Toscana Pride, è il paese europeo con il maggior numero di vittime di transfobia e il 2022 è stato l'anno più violento per la comunità. Al Toscana Pride parteciperanno sia la Regione che il Comune di Firenze.